Ben ritrovati cari amici al nostro consueto appuntamento con il dottor Luigi Torchio che salutiamo, buongiorno, come saprete è un medico studioso di medicina naturale specializzato in medicina dello sport e omeopata, dunque dottor Torchio l'argomento di oggi vede le medicine naturali, quindi che cosa si intende per medicine naturali innanzitutto? Intendiamo per medicine naturali tutto ciò che non è farmacologia chimica e in particolare tutto ciò che arriva dalla natura, quindi tutte le erbe, rimedi fitoterapici, tutti i modi di curare in maniera naturale, quindi anche trattamenti che possono essere manuali, la stessa agopuntura per esempio che utilizza gli aghi ma non soltanto, la medicina ayurvedica che utilizza trattamenti particolari, massaggi eccetera eccetera, tutto ciò che non è chimico farmacologico. Benissimo, come si può appunto, è possibile curare solo e unicamente con le medicine naturali oppure bisogna affiancarle alla medicina scientifica? Ma indubbiamente la medicina naturale oggi ha avuto una grande espansione e diciamo che in questi 30 anni le farmacie che avevano forse il 5% di prodotti naturali 30 anni fa, oggi hanno almeno il 50% di prodotti naturali, quindi vuole dire che il consumo c'è e i risultati ci sono, ma l'ottica non è quella che un tipo di cura sostituisca l'altra, l'ottica invece è quella che il medico, non solo il medico di base, qualsiasi tipo di medico, compreso l'oncologo studi con una certa precisione la medicina naturale per poterle collocare in un'ottica di sinergia con la chimica, perché oggi ci troviamo atteggiamenti quasi infantili della classe medica dove chi si schiera la medicina naturale non vuole curarsi con i farmaci, i pazienti fanno anche così o viceversa, chi crede solo nella chimica utilizza solo farmaci e denigra la medicina naturale, l'ottica non è questa, l'ottica è quella di trovare tutto ciò che cura nel migliore dei modi e noi sappiamo che il 70-80% delle patologie possono essere curate con la medicina naturale, la fitoterapia, oramai abbiamo mille modi di somministrare le erbe, dalle compresse alle tisane agli estratti idroalcolici, cioè tinture madri, insomma ne abbiamo per tutti i gusti e soprattutto conosciamo molto bene le erbe e sappiamo anche quali sono gli effetti terapeutici. Dottor Torchio, vogliamo dire due parole appunto sull'omeopatia, che è questa medicina naturale con il quale molti medici si sono scontrati, nel senso chi è a favore, chi non è a favore, chi dice che sia inutile, effetto placebo, addirittura acqua fredda. Allora, la medicina omeopatica è estremamente geniale come tipo di concetto, ma la diatriba è nata dal fatto che alcuni rimedi omeopatici sono così diluiti che praticamente non si trova quasi più la sostanza, chiamiamola, terapeutica all'interno, ma questa quantità di rimedi così diluiti in realtà è il 20% di tutti i rimedi omeopatici, i rimedi invece più concentrati, che noi chiamiamo a bassa diluizione invece contengono ancora il principio attivo. Casomai il principio terapeutico che è diverso, nell'omeopatia noi andiamo a utilizzare una sostanza che aiuti il corpo, ma andiamo a utilizzare una sostanza che creerebbe nel corpo quella stessa malattia che vogliamo curare. Quindi se io ho un mal di testa di un certo tipo, devo trovare un'erba che mi crei, quello stesso sintomo, quello stesso mal di testa e poi lavorarlo con la procedura omeopatica di diluizione, di dinamizzazione e somministrarlo per avere una reazione del corpo. Ancora noi non siamo in grado di misurare i campi elettromagnetici, ma comunque noi sappiamo che il rimedi omeopatico contiene anche un'informazione elettromagnetica che è estremamente importante, che la fisica quantistica ha dimostrato, perché tutto l'universo e il nostro corpo è un intersecarsi di campi magnetici, addirittura certi campi magnetici interferiscono direttamente con il DNA. Quindi l'omeopatia sicuramente continuerà con i suoi sviluppi a rimanere fra le medicine naturali accanto alla fitoterapia classica. Dottor Torchi, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. Cari amici, noi ci rivediamo sempre alla stessa ora su GRP. Grazie e buona serata. Grazie.